Quattro persone che spacciavano e facevano acquisti con banconote false sono state arrestate dai carabinieri. Si tratta di quattro persone residenti adottati che nei giorni scorsi hanno effettuato acquisti nei comuni di Casalbuono, Buonabitacolo e Montesano sulla Marcellana, pagando la merce con banconote da 100 euro contraffatte. Uno dei commercianti, insospettitosi dell'atteggiamento dei quattro, ha subito avvertito i carabinieri della stazione di Buonabitacolo che dopo aver verificato che le banconote utilizzate per i pagamenti fossero contraffatte, immediatamente si sono messe alla ricerca dei quattro. Poco dopo i militari dell'arma li hanno bloccati presso lo svincolo autostradale di Padula Buonabitacolo a bordo di una Fiat Stilo. A seguito della perquisizione i militari hanno trovato due banconote false da 100 euro. Il portabagagli dell'autovettura era pieno di merce e grazie agli scontrini fiscali non è stato difficile per i carabinieri risalire le attività commerciali della zona dove le ignare commesse avevano ricevuto altre banconote dello stesso tipo.